C'è voglia di simposi dappertutto, nella vita, sempre particolarmente in classe, perché senza eros filosofico non si può essere insegnante e non si può fare scuola, particolarmente di filosofia ma di nessuna materia. L'altra cosa, quando è il quarto anno che vengo qui, chiaramente illustro il simposio ai miei allievi, quello che trovo e spero che loro abbiano capito e ne parleremo ancora, è che secondo me nulla rende l'essenza dell'amore come questo dialogo. Ogni volta provo la stessa cosa, non c'è film, non c'è libro, non c'è nulla che lo rende come il simposio di Platone. L'eros, quell'eros celeste di cui parlavamo, Lucrezia, la mia allieva, ha chiesto, è secondo me qualsiasi forma di rapporto, di amore, di elevazione che porta due o più persone ad andare verso quella che per i greci è la bellezza, la verità, perché per loro ciò che è bello è anche vero ed è anche buono.